Deve essere sempre presente e io ci rendo in queste cose, la sedetà è la cosa più importante del Cispo. Abbiamo posto delle domande scritte, così il nostro amico, presidente della Peste dei Gigli di Nola, che ci dà le risposte che noi abbiamo scritto, così non facciamo tante polemiche perché è la Peste dei Gigli, anche perché la Peste dei Gigli ormai la gente da fuori ne viene abbastanza e allora siccome che vengono tante persone aspettiamo il momento per fare bella figura. Allora, per fare bella figura noi dobbiamo avere l'organizzazione, la maestria, tutto doc e quest'anno sembra che qualcosa sta andando meglio degli altri anni. Allora io voglio subito a darvi il microfono al nostro ospite qui, Avvocato Raffaele Soprano. Buonasera a tutti, buonasera ai ragazzi ascoltatori che sono in collegamento con la Raffi in questo momento. Voglio fare una precisazione, un'aggiunta, perché è una precisazione a quello che diceva Togli. Qui non ci sono collaboratori, qui c'è una squadra, una squadra che è fatta di uomini che lavorano per un unico obiettivo.